il principe carlo ha condiviso un toccante tributo alla sua defunta nonna la regina madre in quello che sarebbe stato il suo 121 gradi compleanno la clarence house instagram ha condiviso due foto per festeggiare il compleanno della regina madre mercoledì le immagini includevano un adorabile foto d'infanzia del principe di galles con sua nonna la principessa anna e il principe edoardo anche uno dei corgi della regina è immortalato nel toccante scatto clarence house ha intitolato le immagini in questo giorno del 1900 è nata sua maestà la regina elisabetta la regina madre punto la regina madre la nonna del principe di galles ha vissuto a clarence house per quasi 50 anni i fan reali si sono affrettati a commentare il loro amore per la regina madre sotto la foto che bel tributo alla regina madre uno ha commentato un meraviglioso ricordo ha scritto un altro una donna che ha capito cosa significasse essere reale ha detto una terza era così bella sua maestà mi ricorda la mia bisnonna con quello sguardo pieno di amore e gioia buon compleanno regina madre un altro pubblicato un così adorabile tributo all'amata nonna del principe carlo era una persona straordinaria ha scritto un altro utente di instagram la regina madre è morta tragicamente nel marzo 2002 fu la regina dal 1936 al 1952 fino alla morte di re giorgio sesto è stata anche l'ultima imperatrice dell'india quando l'india ha ottenuto l'indipendenza nel 1947 47